Beni per 28 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Palermo a Francesco Gambino, 58 anni, imprenditore nel settore del trasporto di merci su strada. Il provvedimento è stato emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale su richiesta della Procura. Al centro dell'inchiesta indagini del nucleo di polizia economico-finanziaria, avviate dall'operazione Danish VAT, che nel 2021 aveva fatto scattare ordinanze cautelari nei confronti di diversi indagati. Secondo la Procura, gli accertamenti delle fiamme gialle avrebbero fatto emergere un'associazione per delinquere, che avrebbe emesso fatture false per un importo di oltre 16 milioni di euro e avrebbe omesso versamenti di ritenute providenziali e assistenziali, in debita compensazione e bancarotta fraudolenta. Sarebbero state create, e questa la tesi dell'accusa società di comodo, utili al gruppo imprenditoriale e sarebbe stato abbattuto illicitamente il reddito imponibile delle due imprese realmente operative e riconducibili all'uomo. Il sistema, ha contestato la Procura di Palermo, avrebbe portato al fallimento di una delle due società, che aveva accumulato debiti verso l'erario per oltre 22 milioni di euro. Sequestrati otto immobili a Palermo e Ficarazzi, sei società con sede nelle province di Palermo e Catania, un conto corrente, un motociclo e un autoveicolo per un valore complessivo di circa 28 milioni di euro.